iniziamo questa settimana con una parola meravigliosa che illumina i nostri rapporti noi sappiamo come tanto della nostra vita dipenda dai nostri rapporti tutto praticamente certo c'è il lavoro non il lavoro la missione quello a cui siamo chiamati ogni giorno che anche influisce molto no sulla nostra vita però quello che fonda fondante sono i nostri rapporti cominciando da quelli familiari per arrivare a tutti gli altri no quelli delle sorelle dei fratelli della comunità religiosa della comunità cristiana e poi altre persone i colleghi di lavoro eccetera e oggi il signore illumina quello che c'è nel nostro cuore dietro a questo vangelo risuona un'altra parola del signore la che dice laddove è il tuo tesoro là c'è il tuo cuore perché la stessa parola che parla di cielo che parla di farsi tesori in cielo no di vendere tutto a san paolo di pensare alle cose di lassù cercare e pensare il pensiero pensiero costante delle cose del cielo ma puoi pensare al cielo e questo è una domanda importante perché qual è l'orizzonte nel quale noi mettiamo noi stessi e le persone che stanno intorno a noi questo nella vita spicciola e non abbiamo bisogno di chissà che cosa se non è il cielo dove si trova cristo assiso alla destra del padre allora noi non potremo vivere come sempre dice san paolo nascosti con cristo in dio cioè la nostra vita non è cristo diceva san paolo profondità della ricchezza della sapienza della conoscenza di dio chi ha mai conosciuto il pensiero del signore o chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il contraccambio e qui che tutto cambia questo banchetto di cui parla il signore è detto che lui offre adesso in questa messa in questa eucaristia ma offre ogni giorno per noi e invita gli stoppi i ciechi gli storpi i poveri noi questa mattina che non abbiamo da dare nulla in contraccambio a lui c'è una spiritualità di fare le cose per il signore di dare le cose al signore che è tutto vero è importantissimo una sposa da tutto però c'è un pericolo sempre di perdere l'orizzonte che io non ho dato nulla a cristo per primo però questa è una cosa che io vivo veramente cioè ho davanti la mia realtà io da me posso dire sono cieco sono storpio sono cieco perché tante volte non vedo la sofferenza del fratello la situazione che sta vivendo non ho discernimento penso sono così ripiegato su me stesso sono storpio zoppo non posso camminare verso il fratello sono poverissimo non ho niente da dare sì ma se lo dice qualcun altro già cambia la situazione se un fratello dice ma sei proprio storpio guarda non ti curi di nulla sei un orgogliosa me lo dico da me stesso faccio anche il pio la pia ma poi se capita che qualcuno invece me lo dica nella verità allora se abbiamo davanti la nostra realtà possiamo intraprendere un cammino di libertà vero perché sappiamo che anche quando invitiamo gli altri nel fondo c'è sempre un retrogusto che attende una ricompensa poi questo una comunità religiosa è fortissimo vero è vero nei seminari è vero nelle comunità religiose vero nei parrocchi facciamo tante cose io poi prete non ne parliamo io io per primo fai cose sempre sperando in un contraccambio se arriva qualcuno che ti loda o ti dà un ringraziamento ma magari fai lì l'umile però nel fondo ti piace no ti piace cioè non è che tu fai una cosa e poi dopo l'altro dice ma l'hai fatta male ma a che serve io ricordo sempre di Corweglio l'iniziatore del cammino che aveva a fianco una donna santa perché mai carmen mai mai le ha detto una parola di lode ma fino a farlo soffrire intimamente poi adesso nei diari che sono usciti dicami molto intimi che non nessuno aveva mai letto si leggeva anche la sofferenza di lei per non dire questo è perché aveva l'opera di dio certo però sapeva discernere l'opera di dio da lodare dalla persona perché la sapienza dei padri no dei pari della chiesa e pari del deserto sempre dice una cosa loda il tuo fratello e lo consegna a satana non per arrivare al sistema educativo del giappone dove un padre mai accarezza un figlio mai no non è questo non stiamo parlando di questo perché certo molte volte cerchiamo di capirci no bisogna incoraggiare anche no una superiore un educatore un padre con i figli anche un marito con la moglie la moglie con il marito incoraggiarlo ma questo sempre con molta sagacia con molto discernimento però sempre evitando che quello sarsi la persona questo è l'amore vero no questo dice libro della sapienza il padre vero corregge il suo figlio se non ti corregge saresti un bastardo saresti uno di cui il padre non si interessa c'è una circoncisione del cuore alla quale siamo chiamati che che molte volte lo fa sanguinare il cuore no che molte volte questa corona di spine è conficcata nella nostra ragione per cui le cose ci sfuggono e sono necessario necessaria e salutare dice il signore beato perché non hanno da ricambiarti ma è tutto il contrario di quello che noi viviamo allora per questo non siamo beati perché aspettiamo un contraccambio aspettiamo un risultato aspettiamo che gli altri si accorgiano abbiamo bisogno di riscontri dicevano i padri della chiesa quando parlavano ai cristiani che avevano terminato stavano terminando stavano ricevendo per ricevere il battesimo cercatevi le umiliazioni quasi a pagare persone che vi umilino è questo masochismo e cos'è va contro la natura dell'uomo tutti abbiamo bisogno di una fidanzata bisogna che il fidanzato le contraccali contraccali contraccambino marito anche in una comunità questa beatitudine è molto profonda perché è quella che anticipa il cielo perché l'amore è vero l'amore è vero che io penso che tutti abbiamo sperimentato una volta nella vita o molte volte l'amore è vero si dà quando veramente tu accogli inviti e accogli al tuo banchetto l'altro così com'è così com'è significa che non può contraccambiarti non perché ti può anche rinvitare darti 100 euro o dirti sei bravo ma quello non è il contraccambio che tu e io abbiamo di cui tu e io abbiamo bisogno perché quel contraccambio quell'affetto quella eh quella lode o quel riconoscimento o quello che sia anche più profondo che può esserci in una relazione matrimoniale al momento topico della mia vita di una malattia di un'umiliazione vera quando io sperimento la mia debolezza quando io sono chiamato a tagliare a vedere che che quella situazione è pericolosa questo affetto che alla fine mi soffoca risulta che non mi serve a nulla non è vita non è quel surplus quel quel di più di vita della quale io ho bisogno per entrare nella morte per entrare nell'umiliazione per entrare nella malattia per entrare nella precarietà per entrare nella nella incomprensione per entrare può una superiore o una moglie o chi sia può aiutarmi può accogliermi ma poi quando risulta che invece mi deve dire la verità di tutte quelle lodi anzi quelle si torcono contro di me perché ma come fino a ieri e adesso che è tutto sbalestrato no allora per questo ritorniamo al punto se io so che sono uno storpio so che anche l'altro io non sono meglio di nessuno forse sono peggio ma sicuramente anche gli altri non possono contraccambiarmi anche se sono ricchi anche se sono potenti anche se sono superiori non possono contraccambiare che cosa che cosa compensare che cosa ricompensare che cosa quel deficit di amore che soltanto cristo mi può dare perché abbiamo tutti un luogo nel profondo del nostro cuore dove siamo solo noi stessi che solo cristo può occupare perché solo lui ci ama così come siamo solo lui non ha esigenza con noi solo lui capisce quello che nemmeno noi capiamo di noi stessi questo questa mensa eucaristica è fondamentale e questo lo possiamo sperimentare esattamente quando per grazia questo amore debordante ti fa accogliere l'altro quando non ti dà valore quando ti insulta quando ti rifiuta quando non ti capisce e paradossalmente sei beato lì sei beato quando non ottieni quello che vuoi quando l'altro ti delude paradossalmente lì sei beato perché cristo in quel momento ha dato la sua vita e lì ha deposto il cielo la sua vittoria sulla morte oltre la carne oltre i limiti no lì lui si fa tua ricompensa lì comincia a pregustare la ricompensa della risurrezione dei giusti perché hai una vita dentro che è quella già del giustificato di quello che una vita che zampilla per la vita eterna dice no il signore alla samaritana c'è questa vita allora tu sei beato lì perché proprio grazie all'umiliazione all'incomprensione al fatto che l'altro non riesce a dare quello la ricompensa non ti compensa i tuoi sforzi non compensa il tuo amore o quello che tu hai fatto proprio lì tu sperimenti che da te nasce qualcosa che non è tuo quindi tocchi cristo quindi cristo nella tua vita questo significa pensare alle cose del cielo non è stare lì a guardare il cielo a io voglio il cielo voglio il cielo voglio il cielo no cercare pensare il cielo al cielo vivere nascosti con cristo in dio dalle morte alle cose della carne vuol dire vivere la vita di cristo vivere la vita crocifissa che fa dolore alla carne fa dolore fa dolore alla mente fa dolore alle nostre forze alla nostra anima come dice lo scema ma ti fa sperimentare che dio è tutto che gesù cristo è il tuo sposo che gesù cristo è la tua ricompensa questo vale per tutti questo vale per un fidanzato vale per un ragazzo che studia vale per una persona anziana lasciata nell'ospedale o nella casa di riposo ha per una moglie che fa tanto e il marito non se ne accogge di nulla o viceversa vale per un convento come una casa religiosa vivere tutto lavare fare tutte le cose sapendo che la ricompensa è cristo cioè lo fa in lui lo fa in lui senza esigere senza aspettare nulla il mondo dice che questo è cinismo che questo è no non è vero questa è la santa indifferenza perché è cristo che è tutto per te però lo fai libero lo fai libero pensa che libertà che possiamo vivere oggi perché la vera libertà del figlio di dio è quello che si offre e che serve che non viene e non cerca di essere servito che ama gratuitamente nell'amore gratuito che lo accoglie ogni giorno senza giudicarlo con una misericordia infinita grazie infinito don antonello e grazie anche a tutti voi che ascoltate il commento della pagina amici di gesù a tutti auguro una buona settimana ciao da emilio grazie a tutti 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 grazie a tutti